Governo e vertici del calcio si riaggiornano dopo 36 giorni in una situazione differente ma ancora estremamente caotica per decidere cosa sarà del mondo del pallone per questa stagione. Il Premier Conte, il Ministro Spadafore e tutti i big del calcio nostrano alle 18.30 daranno il via alla Conference Call per analizzare innanzitutto le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Il protocollo sanitario per la ripresa delle partite riprende in pieno ciò che è stato stabilito per gli allenamenti. Riesce difficile dunque a questo punto pensare ad una contrarietà degli scienziati anche alla ripresa del campionato ma certamente da ieri le cose sono leggermente cambiate. Sono due sostanzialmente i fattori che potrebbero condizionare la scelta. Innanzitutto la presunta positività di un componente dello staff del Bologna, circostanza poi smentita che ha fatto temere la quarantena per l'intera squadra di Mijailovic e il numero di contagi della Lombardia che continua ad essere estremamente elevato. Ieri è stato un giorno di contatti e di riunioni preparatorie si è discusso in FIGC del problema della proroga dei contratti ci saranno trattative singole che comunque avranno dei vincoli il principio è chiaro anche per i prestiti i calciatori dovranno rimanere nelle loro squadre attuali fino alla fine della stagione cioè al 31 agosto senza fare ritorno alla base. Ieri Damiano Tommasi, il presidente dell'Asso Calciatori ha chiosato con una rivisitazione ungarettiana che ben descrive lo stato d'animo di calciatori ed addetti ai lavori. Si sa come a maggio in Italia la Serie A parafrasando chissà cosa accadrà nel mondo del pallone lo scopriremo forse questa sera.